ciao a tutti sono michela di chetogenica in fantasia oggi vi vado a illustrare non una ricetta ma una serie di piatti sempre fantasiosi usando un ingrediente che io amo moltissimo che sono le uova oggi andremo a utilizzare delle uova di quaglia creando un cestino per loro e ho preso una foglia di insalata iceberg a forma di conca poi prendete le vostre uova che avete fatto bollire delle uova piccole uova di quaglia sode e le mettete un po al centro nel frattempo ho creato dei filetti con delle zucchine grigliate per mettere intorno e dare un po l'idea dei rami nel nido vi mettete le vostre uova un cestino potete usare ovviamente per guarnire una salsa tipo maionese io in realtà siccome appunto molti dei miei piatti l'improvviso parto da un'idea poi va da un'altra ho creato un pochino di salsa rosa fatta semplicemente con della maionese e gli ho messo un po di passata di pomodoro così per dare un pochettino più di colore al piatto quindi parcite il vostro piatto con un po di salsa cliccate il vostro piatto con un pochettino più di più di fredacina cliccate il vostro piatto con un pochettino più di salsa cliccate il vostro piatto con un pochettino più di 20 minuti Ed ecco qua, avete il vostro bel cestino di uova, piuttosto che presentare due uova bollite, no? È un'alternativa molto carina e ci vuole veramente veramente pochissimo tempo.